Era impatriata con il mio amico, irriconoscibile, devo dire. Un sogno di me stesso. Volevamo dirvi una cosa che vi dico dopo perché viene da ridere. Volevamo dirvi che il comunistico Rolex da oggi lo trovate a prezzo speciale su iTunes. Speciale come me, comunque dopo otto mesi, per rispetto a chi lo ha comprato, non si fa subito, si fa dopo un bel po'. Vi lascio il link, fate così. Ciao amico! Ciao amico! Comunque raga, Ax Così e Walter White di Breaking Bad. Walter Bianco, sono... AX Così e Walter White di Breaking Bad. Siamo sul veliero, si chiama il veliero Giampiero. Siamo arrivati a fuoco. Vado a salire su. Qua è vivo, eh! E' vero, è vero, è vero. E' vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Siamo arrivati a piacere, Wolfgang. Siamo arrivati a un saccare, con le tandoni, con le tassure, con le tassure, con i piacere e con il senso. Siamo fatti, in qualche morte avrei voluto male, ma sono rimasto in silenzio. E c'erano che in ricorda in manchezzo, a rimangio… con il suo diverso con il mio padre che tirano dire con la la zona contami l'ultima mi rata di compagnia che non è la mia spero che poi la mia non è la mia è la mia è la mia stai tien ah la destra, la sinistra Wow Grazie a tutti raga, la maddalena è stato incredibile, speriamo di non ammalarci, abbiamo preso un sacco di vento e speriamo di essere presenti in mani a Treviso perché forse c'è mal tempo ma facciamo le dita, ce la faremo